Era il 29 giugno 1944 quando le truppe naziste perpetrarono un brutale eccidio nelle località di Civitella in Valdichiana, Cornie e San Pancrazio di Bucine, una delle pagine più nere della storia contemporanea della provincia di Arezzo. Una brutale strage ricordata come l'eccidio di Civitella che si concluse con la morte di 244 civili. A distanza di 79 anni le celebrazioni a Civitella che erano iniziate con l'annuale Marcia della Pace lo scorso maggio. Ricordiamo quello che è stato uno degli ecigli più tremendi, eciglinaggi fascista della provincia di Arezzo. Quindi è importante in questi momenti ricordare, è importante ricordare la storia, ricordare quella che è stata la memoria dei nostri martiri e allo stesso tempo proiettarci verso il futuro per da qui lanciare quegli ideali di libertà, di pace che anche oggi ne abbiamo bisogno. Allo stesso tempo dobbiamo ricordare anche tutte quelle persone che hanno combattuto nel 44 per darci quella che è la libertà, per darci quella libertà, quella democrazia che oggi sono il fondamento dell'Unione Europea e del nostro paese. Da qui escono fuori dei valori che sono quelli su cui si basa il coesistere civile fra la gente, fra i popoli e la guerra fra Ucraina e Russia ce lo ricorda tutti i giorni. Ci ricorda tutti i giorni che non possiamo cullarci su quello che abbiamo. La libertà e la democrazia è una cosa che va difesa tutti i giorni e molto spesso l'uomo lo dà per scontato, ma non è così. Tra le vittime della strage anche Don Alcide Lazzari, che offrì la sua vita a nome di tutta la comunità. Per lui prosegue il processo di beatificazione e canonizzazione. Direi che molte cose sono diventate chiare. Quello che si diceva a furor di popolo è il risultato anche agli atti. Cioè Don Alcide è santo per aver dato la sua vita per il popolo, per salvare la gente. La memoria infine in Toscana passa anche dalla rete dei comuni teatro di stragi e decidi nazifasciste. Cerchiamo di metterli insieme, questi comuni, in modo che possano far sentire più alta la loro voce. Abbiamo fatto pubblicazioni, abbiamo cercato di creare questa rete perché vi possa essere durante l'anno sempre la costanza dell'informazione e della memoria di quello che avvenne. In Toscana sono morte 4.500 persone civili e incolpevoli, un po' come a Civitella, le donne, i bambini, gli anziani che venivano colpiti perché non potevano difendersi. Questo fecero i nazifascisti e bene ce le ricordiamo.